Buon pomeriggio persone sus, io sono la re tiramisus ed oggi be devo fare sto annuncio molto probabilmente per almeno tre mesi dovrò editare la maggior parte dei video con il telefono, per fare un esperimento diciamo, il prossimo video sarà al 100% editato col telefono escludendo il copione giusto per far vedere se è una cosa fattibile oppure no e visto che non ho altro da aggiungere ci vediamo al prossimo ridicolo video. Grazie